Si è tenuta in prefettura, preseduta dal vice prefetto vicario Massimo Signorelli, una riunione per richiamare l'attenzione dei partecipanti sui principali adempimenti prescritti in materia di propaganda elettorale, al fine di un ordinato svolgimento conforme alla normativa vigente e alle regole della civile convivenza. All'incontro hanno preso parte i rappresentanti dei comuni, delle forze dell'ordine, dei partiti e dei movimenti politici. È stato formulato l'invito ai soggetti coinvolti, si legge in una nota, a collaborare affinché il diritto alla propaganda elettorale venga esercitato nel pieno rispetto delle prescrizioni normative e in un clima di serena dialettica democratica. Previste misure finalizzate ad impedire che le iniziative di propaganda elettorale arrechino turbamento alla normale attività e alla quiete dei cittadini, evitando nei comizi e nei giornali parlati intemperanze verbali e più in generale affinché la competizione elettorale si svolga in un'atmosfera di reciproco rispetto tra i concorrenti. Inoltre è stato convenuto che durante lo svolgimento di tradizionali processioni religiose nelle vie e piazze destinate ai comizi si provvederà alla sospensione degli stessi con recupero del tempo. È stato evidenziato l'obbligo dei comuni, sulla base di proprie norme regolamentari e senza oneri a proprio carico, di mettere a disposizione dei partiti e dei movimenti politici in misura uguale tra loro i locali di proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti. Ribadito l'obbligo di individuare un numero idoneo di spazi per le affissioni di propaganda elettorale da ubicare nelle varie zone della città, in modo da disincentivare l'affissione non autorizzata.